Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia. Partiamo subito con gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. In Fipili, a causa di lavori, si registrano 3 km di coda tra la Strassigne e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno e 1 km in direzione Firenze. A causa del traffico intenso, invece, code in uscita alla Strassigne provenendo da Firenze e tra Scandicci e Firenze Scandicci verso Firenze. In A12, a causa di lavori, code tra Versilia e Massa in direzione Genova. In A1 fino alle 18 di domani, a causa di lavori, rimarranno chiusi i tratti tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Roma e tra il Vivio con la variante del Valico e Aglio in direzione Bologna. Cantieri di Firenze e possibili disagi per i cantieri di Publiacqua in Viale Lavagnini tra Via Leone Decimo e Viale Strozzi. E per il momento è tutto, muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!